Quando arriverà questa cosa dentro YouTube Analytics saprete esattamente che video fare. Sta per arrivare una cosa incredibile, sono veramente contento perché YouTube sta nella parte di Analytics mostrando a tutti che tipo di ambiente sociale è. Un ambiente sociale che del numero delle metriche del cavolo non gliene frega più niente e da anni sta battendo sulle metriche giuste. Che cosa ve ne fate del numero di iscritti, numero di non iscritti? Che cosa? Sì, un po' su Analytics se tu fai il confronto tra le visualizzazioni degli iscritti e dei non iscritti puoi fare qualcosa. Il numero pubblico non serve a niente, è molto importante anche il numero delle visualizzazioni, è molto importante il watch time, è la metrica più importante in assoluto. E il numero di iscritti, sì, possiamo farci delle analisi approfondite noi interni, fuori non serve a niente. E per noi interni, questo numero di iscritti che più cresce, più canali diventano, diciamo, importanti, meno visibilità si ha, diciamo, per ognuno. E non ci fa tanto la differenza. C'è qualcosa di molto, di molto importante invece, che riguarda la nostra audience, riguarda l'audience dei canali. E quindi, già abbiamo visto che cosa guarda il tuo pubblico. Buono? Ottimo? Sì, fantastico, si può fare tutta una serie di cose, puoi fare dei video, ma sta per arrivare, non si sa quando, una funzionalità pazzesca. E voglio mostrarvi il video che c'è su la parte di, in pratica non vi faccio questa puntata, la parte 1, la parte 2, la parte 3, c'è il video su il creator insider. E c'è, in pratica, Rachel, se non sbaglio, che ha mostrato su cosa sta lavorando. E lei dice questa cosa, altro che il numero di iscritti, che non serve a niente. Lei dice questa cosa, il vostro canale, per il periodo di tempo, ha dei nuovi visitatori, cioè persone che scoprono i video per la prima volta. Poi ha i visitatori casuali, guardano un po' di video. E poi che cosa ha? Le persone che frequentemente tornano da voi. Sono tre, possiamo chiamarle, tre audience differenti, che si comportano anche in modo differente. E lei dice, beh, lei è Rachel, lei dice a un certo punto, comparare. Allora che cosa geniale, che si è inventata e che stanno portando avanti. Comparare, questo è un esperimento che non è disponibile, è interno. Comparare queste tre tipologie di visitatori vi fa capire che tipo di audience avete. Questo canale, che è un canale che ha i visitatori di ritorno elevatissimi, i visitatori nuovi e casual, diciamo visitatori casuali un po' più bassi, o molto bassi rispetto a quelli di ritorno, è un canale che fidelizza tanto, che non lavora sulle tendenze, e lavora sulla fidelizzazione del pubblico, non lavora su video di tendenza questo canale qui, non lavora sulla nuova scoperta, ma lavora sul fidelizzare cosa già c'è. È probabilmente un canale dedicato ai talk show, è precisa questa cosa, è molto precisa, è molto interessante questa distinzione che lei fa. Invece mostra un altro tipo di grafico, dove praticamente mostra che le tre audience sono, in sostanza si equivalgono, ma i visitatori casuali sono più elevati degli altri, c'è quelli che, non i nuovi, i casuali, c'è quelli che ne guardano uno ogni tanto, vuol dire che il canale composto, guardate che è molto molto importante, è composto da una varietà di argomenti, e quindi punta su questa cosa qui. Se avesse invece i nuovi visitatori, diciamo più elevata, sarebbe un canale che invece va a fare solo le tendenze, e allora, e allora, poi fa tutta una serie di analisi, lei dice una cosa importante, e vi mostro cosa sta per arrivare, perché arriverà una cosa simile. Lei dice, in questo modo, per la metrica che tra un po' vi mostro, che stanno per portare dentro YouTube Analytics e che rivoluziona le analisi del nostro pubblico, dice, uno, capire cosa porta poi tutte le persone la prima volta e tutte le altre volte sul nostro canale, due, vi consigliamo, è un consiglio che vi sto dando da un po' di tempo, di fare delle serie, perché possono portare le serie a fidelizzare le persone, quelle che stiamo facendo con Andrea Ciraulo, professione YouTuber, che c'è stata la stagione 1, e ora arriva la stagione 2, sarà pazzesca la stagione 2, e poi dice, riesci ad attrarre ripetutamente i visitatori, quelli che tornano, con contenuti di alto valore, un po' quello che cerco di fare su alcune serie, come funziona Google, come funziona YouTube, anche quella dei podcast ieri. Quindi dice questa cosa, e in tutto quello che lei dà, mostra finalmente un grafico dentro YouTube Analytics, quindi è un video di un mesetto fa circa, che non avevo visto, questo è il miglior video dal mio punto di vista di quest'anno sui creator insider, dice, questo canale per esempio mostra del generico, del canale generico, che 3.000 sono visitatori che tornano, e 10.000 sono nuovi visitatori, purtroppo dentro YouTube Analytics non ci sarà, a quanto pare, la metrica, quale metrica? La metrica dei visitatori casuali, quelli che ogni tanto vengono, quindi avremo la metrica dei nuovi, e la metrica invece di quelli che sono fidelizzati e che tornano. Dove si troverà dentro YouTube Analytics questa cosa? E attenzione, ora scopriamo che cosa fare, si troverà nella parte di pubblico, se non vado errato, nella parte di pubblico, vi confermo un attimo questa cosa, al volo, si nella parte, vediamo, si nella parte di pubblico, molto importante questa cosa, quindi insieme a quanti visitatori unici facciamo, che è fondamentale, qual è l'average per ogni visitatore e quanti iscritti avremo i visitatori di ritorno, e speriamo che magari ci sia anche sulla serie questa cosa, cioè se lo fai su tutto il canale va bene, immaginate a poterlo fare su delle playlist, sarebbe fantastico. Allora, questo che cos'è che ci dà però, quando arriverà questa cosa? Che cos'è che noi dovremmo fare con un grafico del genere che ci dice quanto sono i visitatori di ritorno e quanti sono i nuovi visitatori? Ci sono delle considerazioni che potete fare sul vostro canale, importantissime, se avete e avrete dei visitatori di ritorno molto elevate, vuol dire che è un pubblico fidelizzato, questo è fondamentale, altro che il numero di iscritti, vi fa capire, se invece avete più visitatori nuovi, vuol dire che state lavorando tanto sulle tendenze. È una scelta, però sapere che cos'è che sta guardando il nostro pubblico, e magari speriamo fare delle analisi anche sulle singole playlist, per capire quale playlist è più adatta al nostro pubblico, è fondamentale. Attenzione, non è il numero degli iscritti. Gli iscritti, per me, servono a poco, servono a poco perché un iscritto è uno che magari passa lì dal canale, che ha lasciato la descrizione, e poi non torna. E quindi è importantissimo sapere, questo ci fa capire anche la questione dell'esplosione di un canale, perché un canale esplode se ha visitatori di ritorno, e quindi capire su cosa lavorare per far tornare le persone. È fantastico, sono veramente contento, come diceva un vecchio video, sono veramente euforico su questa cosa qui, perché YouTube sta facendo il salto sull'analitica. Sta mettendo, io non me lo sarei mai aspettato, delle cose importanti a livello alto, non nel dettaglio di Analytics, che già è buono e che potrebbe fare tanto, ma a livello alto, che è un po' la critica dei tanti YouTuber, che dice, sì, ma YouTube studia un'analitica, ma non mi dà delle cose utili. Ora, non si può più dire, perché ci sono delle cose già tanto, tanto utili, il Visual Funnel, gli iscritti che ricevono la campanella, cosa guarda il tuo pubblico, non lo so se fare un video con tutte le cose, ditemelo se lo volete, ditemi qualsiasi cosa, mettetemi il vostro feedback, cosa mi piace, cosa non vi piace, però ci sono tante cose già utili, questa è, secondo me, una delle più importanti in assoluto, appena la metteranno, per capire l'audience e capire cosa fare, capire l'audience e capire cosa fare, è fondamentale. Iscrivetevi su Telegram o seguitemi, Telegram si chiama il canale Fast Forward, o qui su YouTube attivate la campanella, perché facciamo tante cose, domani c'è la live con Rossella Pivanti, dedicata ai podcast, sarà molto molto importante. oppure io, Fast Forward è distribuita su tutti i podcast, canali podcast, ma soprattutto io sono community manager di Connect.gt, dove aiutiamo tutti a crescere, abbiamo la sezione YouTube con tutte le novità, non so se mai avete avuto la brillante idea di navigare all'interno di Connect.gt, di andare nella parte Categories, e poi ve lo mostro perché è importante, credo che sia importante questa cosa, per chi non ha la possibilità di vederlo, non sta vedendo che sto modificando in tempo reale OBS, con il quale ormai mi diverto un sacco a registrare i miei video, andiamo su YouTube, e guardate qui quante cose nuove che vi trovate, monetizzazione YouTube, ci faccio un video su questa cosa, fantastico, per chi ha la super chat e gli abbonamenti, sull'audience, l'audience è questo video, il blurring, la sfocatura, il badge di verifica, questo è un argomento che voglio trattare, il band da Twitch, tutta una serie di cose importanti che condividiamo, e altre domande, insomma, è veramente bello come funziona YouTube, le entrate, i dati, quanto sono precisi, sono tutte le domande alle quali nessuno ha risposto, e sarebbe il caso di rispondere, magari lo fate voi, va bene, va bene, insomma, le trovate qui in giro, seguite Fast Forward perché vi aggiorno, su tutte quelle che sono le novità di internet, internet una settimana prima, a domani, a domani, sì, domani stavo dimenticando, domani esce il video su YouTube e l'e-commerce, quante cose che possono cambiare, per i brand, i creator, per chi vende, è pazzesco YouTube e Google che stanno commentando, davvero. Grazie a tutti.